Buongiorno a tutti. Allora come vedete Felpina che mi aveva regalato il Natale scorso gli amici perché questo è un video di ringraziamento perché sono arrivato ad avere più di 200 follower. Io ho iniziato meno di un anno fa questa questa avventura chiamiamola così e francamente mi aspettavo insulti prese in giro eccetera 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 e che naturalmente magari mi seguissero giusto quei quattro cinque amici per prendermi per i fondelli e tutto quanto invece devo dire che le persone mi stanno seguendo volentieri mi danno consigli sono sempre molto propositivi come si suol dire se hanno delle critiche da fare me le fanno ma sono sempre costruttive fanno anche piacere perché sono utili fortunatamente non ho nessuno che viene sul sul mio canale a offendere o che cosa anche perché comunque lo eliminerei subito se le offense sono offensanti so a chi rivolgermi però ripeto fortunatamente nessuno è mai venuto a dirmi nulla di offensivo a parte una battuta di un mio amico ma è un ragazzo con cui vado allo stadio eccetera quindi ci mancherebbe se se non parte qualche coglionazzo che cosa non succede mica niente cioè siamo amici ci vediamo praticamente non dico tutti i giorni ma quasi e quindi non è assolutamente un problema perché sono battutine simpatiche eccetera è logico se uno che manco conosco viene lì a offendermi ma fortunatamente ripeto sono contento anche di questo 203 follower tutte persone per bene intelligenti costruttive che mi danno consigli mi danno idee su su video da fare sta prendendo bene piega anche la cosa dei pronostici in cui ci si può anche confrontare ognuno può dire la sua può dare dei consigli quindi ben venga perché così magari si vince che è la cosa basilare io naturalmente continuerò a farle anzi adesso farò lo sci perché devo vedere come è andato e poi vi farò il resoconto dello sci di sabato scorso e poi partirò naturalmente coi pronostici del weekend serie b serie a campionato tedesco inglese francese e inglese i soliti cinque campionati principali come ho sempre fatto quindi spagnolo francese tedesco inglese e italiano più una serie b perché visto che ha preso piega piega sì giusto facciamo anche la serie b tanto ce la dovrei fare poi naturalmente quando tra un mese non avrò più questi giga omaggio vedrò di organizzarmi prima e partire subito al martedì mercoledì salvo che ci sono le coppe a farvi subito le i pronostici in modo che riusciamo a caricarli per tempo prima che ci siano le partite quindi niente naturalmente proseguiranno anche ogni tanto i miei video un po particolari che riguardano il mukbang magari lo farò già sabato con una nuova pizza sia per quanto riguarda il mukbang sia per quanto riguarda quelle cose particolari e curiose che riguardano i segni zodiacali o l'amore o tante altre cose che ogni tanto i telefilm che vedo in giro naturalmente capiterà ogni tanto visto che sono super preso adesso ci partirà anche lo sci meno male la prossima gara è a fine novembre quindi avremo tempo eccetera per riuscire a dedicarci a quello continuerò con formula 1 e moto gp finché ci saranno teoricamente finiscono a metà novembre poi partiremo con sci e calcio e poi dopo a marzo ripartire marzo aprile ripartiremo con la formula 1 e farò nuovamente la presentazione di tutte le scuderie di formula 1 coi piloti magari cercherò di essere più breve non vi sto a fare la cronistoria di ogni pilota ma vi dirò semplicemente allora questa è la macchina ne parlano così così e i piloti saranno loro due senza farvi la cronistoria dei piloti che tanto potete trovare anche su wikipedia e non vi annoio ma aspetto sempre i vostri consigli per quando riguarda anche formula 1 e moto gp per anche l'anno prossimo quindi niente io vi saluto vi ringrazio nuovamente sono contento adesso il mio obiettivo per giugno il 30 giugno del 2019 arrivare finalmente a mille follower non so se sarà fattibile non so se sarà possibile però quello è il mio mio sogno l'altra cosa che volevo dirvi è che io puntavo a fare 10 mila visualizzazioni per il 31 dicembre di quest'anno quindi iniziando l'anno scorso ho detto farò esagerando 10 mila visualizzazioni saranno tante invece a 10 mila visualizzazioni sono arrivato al primo luglio di quest'anno e adesso che è il primo di novembre sono già arrivato a 21.300 400 circa 350 visualizzazioni e quindi naturalmente per dicembre punto alle 30 mila vedremo se ci arriverò eccetera però mi faccio sempre come diceva di Heller Channel ognuno si deve fare sempre dei piccoli step quando inizia una nuova avventura in modo che così non si sentirà mai un fallito perché comunque ha raggiunto sempre un obiettivo piano piano quindi adesso il mio obiettivo è appunto le 30 mila visualizzazioni per la fine di dicembre poi se arrivano al 7 di gennaio va bene uguale e poi naturalmente i mille follower mi piacerebbe arrivarci per il 30 giugno dell'anno prossimo se poi arrivano prima ben venga se dovessero arrivare al 31 luglio sono felice uguale se arrivano entro l'anno prossimo sono felice uguale però ripeto questi sono i miei step vediamo se li raggiungeremo intanto io vi ringrazio perché comunque siete voi quelli che mi fanno fare tutti questi video e tutto quanto perché li faccio principalmente per voi perché vedo che mi seguite e che vi piacciono vi saluto nuovamente vi ringrazio nuovamente ci vediamo al prossimo video che riguarderà appunto lo sci ciao